Oggi ci troviamo ad Orio Center per l'inaugurazione di Burger King. Qual è il segreto del successo di Burger King? Allora, di segreti ce ne sono tanti. Io partirei con la freschezza dei nostri prodotti, velocità del servizio e ovviamente il nostro sorriso, quello non può mancare. Sicuramente la qualità dei nostri prodotti, la nostra carne cotta alla griglia e la qualità del nostro servizio. Che piatto consiglierebbe ai clienti? Il mio partirei con il Bacon King, sto andando molto e quindi consiglierei proprio il Bacon King. Il Whopper, il nostro cavallo di battaglia. Ed ora ascoltiamo il parere di alcuni clienti di Burger King. È la prima volta che mangiate a Burger King? No, non è la prima, sarà la seconda o la terza. No, ho già mangiato altre volte. Cosa l'ha spinta la prima volta a provare e perché tuttora continua a venire qui? Perché ero all'estero ed era l'unico posto dove potevo mangiare, che ero sicuro di quello che mangiavo, diciamo. Perché è un pasto veloce, semplice e comunque molto buono. Qual è il suo piatto preferito? Tutto buono. L'hamburger col bacon. Quindi se avete fame e vi trovate ad Oreo Center, beh, Burger King.